Buongiorno, benvenuti, ben trovati. Allora, io farò un'introduzione brevissima allo spettacolo al quale è stato il rassista, è legato anche a questo. Adesso parleremo, 5 minuti, del bisogno della maschera, della costruzione del personaggio. Quando diciamo catarsio neopatica, catarsio neopatica intendiamo la lettura dell'alto artistico dall'interno dall'esterno. Si chiama principio di sospensione della incredulità. È quella cosa che ci fa vedere un film senza dirci ogni due secondi, è sangue finto, non è morto, l'ho visto in un altro film, giusto? Il mio suono sarà questo. Io non diremo mai un musicista. Accetto, giusto? Se io dico col difetto tragico e la fragilità, io devo metterci la colpa in quello che dico, l'insicurezza, quindi sarà qualcosa tipo... Io non sarò mai un musicista, quindi traducono la mia fragilità, la mia poco centratura. Se io parlo invece con l'azione esteriore, con la mia rabbia, con la mia frustrazione, dirò io non dirò mai un musicista e ti sfido, giusto? Questo, sono tre colori completamente diversi e qui cambiano tutti i personaggi. Dicevamo appunto di essere o meno musicisti. Io non lo sono sicuro, cambio, sicuramente non lo è, però ne abbiamo qua, bravissimi, facciamo entrare un applauso. Grazie. 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 Grazie.